A nome di tutti i componenti dell'associazione Proloco di Soveria e di tutti i volontari ringrazio l'associazione Ferrovia in Calabria e il direttivo del Comodo per averci dato la possibilità di promuovere la nostra città in questa manifestazione. Per noi le ferrovie sono un volano importante, un volano di sviluppo per tutta l'area del Reventino. Ricordiamo che in passato le più grandi aziende lo utilizzavano come mezzo di trasporto per i materiali da verso Catanzaro e Cosenza. Ci auguriamo che le autorità competenti tengano sempre più in considerazione questa importante infrastruttura che può essere un punto di partenza per lo sviluppo di tutta l'area del Reventino. Ci permettiamo di fare magari una proposta, visto che le stazioni per lo più, i caselli, le stazioni tutte abbandonate, potrebbero essere date in gestione alle associazioni Proloco per utilizzarle a scopi turistici e sociali del territorio. Grazie.